Grande Fratello 15, Alberto Mazzetti spara a zero contro i suoi ex compagni davventura Il Tarzan di Viterbo ha rilasciato una nuova intervista, dove ha attaccato gli inquilini del Grande Fratello. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 Le ultime noità svelano che Alberto Mazzetti ha lanciato qualche frecciatina velenosa contro i suoi ex compagni d'avventura a pochi giorni dalla vincita del Montepremi finale. Alberto Mazzetti vince il Grande Fratello Alberto Mazzetti è tornato a far parlare di sé dopo essere uscito trionfatore dalla quindicesima edizione del Grande Fratello Il giovane dalla folta Chioma Bionda ha concesso un'intervista al Quotidiano Il Giornale dove si è levato qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei suoi ex colleghi d'avventura Inoltre ha espresso il suo parare sulla fuga degli sponsor dalla trasmissione ed ha fatto ambiziosi progetti per il futuro con i 100 mila euro del Montepremi Ricordiamo che l'affascinante ex Stefino ha vinto contro Alessia Prete La modella torinese che ha intrapreso una relazione con Matteo Gentili, il terzo classificato del reality di Canale 5 Infine ha smentito che sia stata consumata cocaina all'interno della casa del Grande Fratello dopo la denuncia fatta di Striscia la notizia. GF, Alberto contro i suoi ex compagni d'avventura Il Tarzan di Viterbo ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, dove ha parlato della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia L'ex modello ha precisato di aver partecipato al reality di Canale 5 per ripianare in parte i debiti, tanto da aver fatto da garante ad alcuni affari finiti male nel 2013 A proposito spera di fare delle serate nelle discoteche italiane, visto che è sotto contratto con l'endemol fino alla fine del 2018 Il trionfatore del GF 15, sicuro di aver portato a casa la vittoria per la sua simpatia, sincerità e spontaneità ha sparato a zero contro Aida Nizar defininendola una persona egocentrica ed insopportabile Il vincitore ha anche ammesso che gli atteggiamenti sopra le righe di Angelo Sanzio avrebbero infastidito tutto il gruppo Inoltre non ha riservato belle parole per i due squalificati, Luigi Favoloso e Bayedame, tanto da disapprovare i loro comportamenti al limite della decenza Poi ha condiviso la scelta del brand pubblicitari di rescindere il contratto con il grande fratello, in quanto avrebbe vissuto benissimo anche senza cibo Infine il 34enne vorrebbe partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi e diventare attore Inoltre non ha risposto bene